Unione sindacale di base, Asia, quindi casa abitare, siamo qui davanti agli uffici dell'assessorato del comune, davanti alla nagrafe. Avete fatto un intervento molto duro, ma ATC sta cominciando a sfrattare con una frequenza, in effetti noi come presenza continuiamo a ricevere i vostri comunicati. Come mai c'è una così elevata recrudescenza degli sfratti da parte di ATC in questo momento, a vostro parere? La causa principale è il fatto che tantissime famiglie si stanno ritrovando con un'amorosità molto alta, dal momento che la maggior parte delle famiglie che vive, le case popolari, sono famiglie che vivono di pensioni minime. Parliamo quindi di cifre sui 480 euro a fronte di affitti che invece continuano ad aumentare anche all'interno delle case popolari e aumentano così anche tutte le spese per le bollette. Una delle motivazioni quindi è sicuramente questa, l'aumento dell'amorosità all'interno delle case di ATC, dati di fine febbraio parlavano del 30%. Questo significa che tantissime altre famiglie se ne stanno aggiungendo con l'aumento appunto di quello che è il caro vita. Ecco, ma ci avete anche segnalato situazioni di famiglie con figli, situazioni obiettivamente da quello che abbiamo capito abbastanza anomale. Che cosa ci potete raccontare su questi sfratti che in effetti destano qualche propresità anche dal punto di vista della motivazione dello sfratto? Prendo per esempio l'ultimo sfratto che ATC è riuscito ad eseguire che è quello di Francesco, un inquilino che ha 44 anni abitato in quella casa popolare e che poi sotto motivi burocratici effettivamente non gli hanno mai voluto assegnare e fare una voltura dalla madre a lui. Sono motivazioni che sembrano molto più legate però che al dato burocratico a quello che è poi il dato oggettivo di fatto di tutto il patrimonio pubblico, ossia quello che è della svendita del patrimonio pubblico. Parliamo ad esempio di palazzine, quelle di via Scialogia in cui erano rimaste solamente due case ancora in mano ad ATC mentre tutte le altre non sono state svendute ai privati. E' ovvio quindi che l'interesse di gran parte di ATC sembra essere proprio quello di fare cassa il più possibile anche sgomberando con la forza come è successo con Francesco senza avere alcun tipo di rispetto di quello che sono i diritti sociali di questo paese, costituzionalmente addirittura garantiti. E' un altro caso ancora che è stato abbastanza calettante ma che ci ha dato anche però la misura di quello che il comune può fare se lo vuole fare, ossia la famiglia per esempio di Ahmed è una famiglia che viene già da uno sfratto. L'unico progetto di emergenza abitativa che gli è stato dato come possibilità era quello di locare, quindi di affitto, un affitto fondamentalmente privato con canoni anche di mercato per quanto continuano a spacciarlo come canone calmierato, però in un alloggio popolare. Quindi sottraendo un alloggio che poteva essere benissimo assegnato o a lui stesso addirittura o anche a un'altra famiglia, però il dato di fatto è che prezzi di mercato con contratti privati in alloggi popolari. Ecco veniamo a locare. Sostanzialmente case di proprietà del comune, se ho ben capito, vengono affittate con contratti che sono di mercato, al di là del fatto che magari gli affitti possono essere un po' più bassi dei prezzi medi di mercato. Quindi sostanzialmente il comune affitta le proprie proprietà che dovrebbe destinare, se ho ben capito, all'emergenza abitativa, quindi all'edilizia popolare, le affitta con dei contratti che sono a tutti gli effetti contratti di mercato. Ho capito bene? Esattamente. Ecco, voi avete in programma un incontro quest'oggi? Noi abbiamo richiesto all'assessore Sotelli di venire a incontrare noi e non solo le famiglie a cui promette tanto a parole, ma anche chi è che invece gli viene sotto visto che non lo vuole mai incontrare e li pone faccia a faccia i problemi che quotidianamente si vivono, che vanno dall'aumento dell'affitto da casa privata a quello da casa popolare per l'aumento delle bollette, che vengono da quelli che sono ritrovati a occupare una casa popolare perché non avevano un'alternativa. Parliamo di tante e tante famiglie con minori a cui però l'unica risposta che ATC ha saputo dargli è stata quella di mandargli subito una diffida e inserirli in bollette un aumento del 130% per indennità di occupazione abusiva. Questa è la situazione. Mentre a Roma si sta invece facendo dei passi avanti grazie alla lotta di tanti altri compagni, di tantissime altre famiglie, verso una deroga all'articolo 5 del decreto Renzi Lupi, che è il decreto che impedisce alle famiglie di poter mettere la residenza all'interno delle occupazioni abitative anche per necessità e impedisce di conseguenza anche l'accesso a quelli che sono i servizi pubblici essenziali, come il servizio sanitario, come il poter iscrivere i bambini all'asilo nido. Tutte queste cose qua a Torino non c'è ancora un dibattito. A Roma invece grazie alla lotta si è riusciti a fare in modo che il comune, soprattutto da parte del sindaco e degli assessori comunali, sia sommesso la responsabilità politica di avviare un ragionamento e dei passi concreti verso una deroga all'articolo 5. Qua a Torino non ce n'è ancora l'ombra, qua a Torino gli occupanti sono visti come l'unica causa del problema abitativo, per cui sgomberandoli, secondo le grandi teorie di sindacati complici come il Sunia, come la Sicet, si risolverebbe il problema abitativo. Noi diciamo invece tutto il contrario, ci vuole una sanatoria, perché queste famiglie con minori che sono ritrovati a dover occupare casa, perché quando sono stati sfrattati il comune non ha dato alcuna soluzione alternativa, sono famiglie che hanno bisogno di una casa e la casa è un diritto. Ecco, quali saranno in sintesi le richieste qualora ci sia questo incontro con l'assessore Rosatelli che voi avancerete? Allora, prima di tutto noi richiediamo che il comune di Torino si faccia promotore di un tavolo permanente che si riunisca dunque sia con l'ATC, sia con la Regione, sia con il comune e sia con i sindacati inquilini. Quindi, questo è il primo punto in cui andare a affrontare realmente la problematica abitativa, sia da un punto di vista emergenziale, perché c'è anche un problema di emergenza, perché 8.000 sfratti solo nel Piemonte e solo al 31-12-2019 è evidente che c'è un grandissimo problema da dover affrontarne nell'immediato. Ma ci vuole anche un tavolo in cui andare a discutere di quello che si può fare nel concreto, a livello strutturale, perché la problematica abitativa viene continuata a essere definita come un'emergenza, ma è un problema strutturale. Non nasce ieri, ma nasce da 30 anni di abbandono di politiche abitative concrete e reali dalla parte dei cittadini. Siamo a richiedere che ci sia un blocco degli sfratti, almeno all'interno delle case popolari, quindi all'interno di quelle del proprietà del comune, come il caso di Ahmed ha dimostrato che è possibile farlo e quindi può farlo benissimo con tutti quanti. Siamo a richiedere che venga ridefinito un piano di rientro rispetto alle morosità e che venga eliminata la quota fissa, che è fissata a 480 euro anche perché ha reddito zero per accedere al fondo sociale. Quindi una quota che di fatto esclude tantissimi e tantissimi cittadini che hanno bisogno di poter accedere ma che si ritrova a dover scegliere tra un fondo sociale o mangiare e fare la spesa il giorno per giorno. Siamo a richiedere che da questo incontro non ci siano solamente parole, ma ci siano anche dei fatti, anche in merito all'aumento delle bollette, quindi di una politica di calmerazione delle bollette e anche degli affitti privati. In questi giorni, anzi ormai sono due o tre mesi che si sta discutendo anche a livello territoriale, l'aderoga e il rinnovo degli accordi della 431 del 98, che è la legge che ha permesso di liberalizzare tutti i canoni d'affitto delle locazioni, quindi facendo schizzare a tutti gli effetti i prezzi del mercato a livello nazionale. In questi tavoli, in cui ci sono tutti i sindacati inquilini, tutte le sezioni di categoria padronali, l'unica funzione che ha è quella di un mediatore tra le parti, senza assumersi una responsabilità invece di essere attivo in questo tavolo e dunque di promuovere delle politiche di calmerazione degli affitti. Grazie. A voi.